Una mano tesa alle piccole e medie imprese, un aiuto concreto a chi ha perso il lavoro. A questo servirà il seminario organizzato per giovedì prossimo alle 10 nella sala direzionale del consorzio Le Bocchette di Capezzano Piano Recca Maiore. Un incontro voluto dall'amministrazione comunale, dallo stesso consorzio artigianale e dallo sviluppo toscana SPA, la società che gestisce milioni di euro destinate alle imprese ma di cui i più ignorano l'esistenza. È uno strumento molto importante in quanto consente l'accesso al credito a soggetti portatori di nuovi progetti imprenditoriali che appunto in questa fase troverebbero difficilmente una risposta soddisfacente da parte degli strumenti finanziari ordinari. È uno strumento rivolto in particolare a soggetti privi di occupazione, indipendentemente dalla loro età, che hanno appunto nuovi progetti imprenditoriali nel settore del commercio, nel settore dei servizi e nel settore della produzione. In particolare lo strumento si articola su tre misure specifiche. Lavoro autonomo, rivolto alle ditte individuali. Mico-impresa, rivolto invece alle società di persone, quindi società in nome collettivo o società in una comandita semplice. E franchising, cioè progetti imprenditoriali da avviarsi con franchisor già convenzionati con Invitalia. Si parla di finanziamenti di massimo 140.000 euro per impresa, a condizioni molto più che favorevoli e soprattutto senza la necessità da parte del piccolo imprenditore di dover dare garanzie o fideiussioni. I fondi a cui attinge questo strumento sono fondi nazionali, il che li esime completamente dall'obbligo di garanzie personali, che invece è una condizione richiesta obbligatoriamente nella concessione di finanziamenti comunitari. I finanziamenti erogabili possono coprire fino al 100% nel rispetto di un tetto massimo di investimento ben definito l'investimento, quindi l'insieme dei beni durevoli necessari a garantire la funzionalità e operatività dei nuovi progetti imprenditoriali e oltre alla copertura integrale dell'investimento viene dato anche un contributo per le spese di gestione, quindi un contributo per le spese di funzionamento del primo anno. La somma di queste due voci, quindi finanziamento per l'investimento e finanziamento per le spese di gestione, viene erogata al 50% sotto forma di contributo a fondo perduto, mentre il 50% viene restituito in 5 anni per la ditta individuale, in 7 anni per la microimpresa e il franchising, ad un tasso attualmente dello 0,85%. Il tutto, ripeto, senza obbligo di una minima garanzia personale.